690 detenuti, molti dei quali affetti da patologie psichiatriche, a fronte di una capienza di 561 posti. Dati che fotografano la situazione critica in cui versa la casa circondariale di Uta, tra sovraffollamento e carenza di personale. In questo quadro si collocano anche due dei quattro suicidi registrati in Sardegna da inizio 2024 e un numero crescente di episodi di autolesionismo e violenza. Questa mattina, nell'ambito dell'iniziativa, è stata in carcere assunta da Forza Italia con il Partito Radicale, Una delegazione costituita da parlamentari, consiglieri regionali e dalla garanti Irene Testa ha fatto visita alla casa circondariale Ettore Scalas. La politica carceraria non è stata mai all'attenzione dei governi che in questi ultimi 15 anni si sono succeduti. Finalmente questo governo Meloni e la maggioranza se ne stanno occupando per la prima volta in maniera organica e strutturale con interventi che dovrebbero alleviare questa situazione drammatica, abbiamo previsto lo snellimento delle procedure per consentire la liberazione anticipata a chi ne ha diritto, è prevista l'aumento di mille unità del corpo di pulizia giudiziaria. Il decreto non è sufficiente e finora tutte le misure che sono state prese non sono sufficienti proprio perché la condizione è esplosiva. In questo carcere ci sono tantissime persone malate e non solo qua, persone che hanno un disagio psichiatrico fortissimo, persone che non possono essere curate qua dentro. Qua dentro semmai spesso si punisce la malattia e non si cura il disagio. E allora noi cosa restituiamo alla società? Un detenuto malato, forse peggio di come è entrato. Io credo che non sia questo il fine rieducativo della pena, non è questo quello che ci chiede la Costituzione e non è questo quello che meritano i cittadini italiani, in fondo la società.